Quanto godo, quanto godo, gironi dell'Italia, acchiappiamo Svizzera, Turchia e Galles, evitate Francia e Portogallo, abbiamo un sedere proprio da urlo, godo, godo come un pazzo, perché veramente è una cosa bellissima vedere l'Italia che affronta l'europeo, squadre che però sono, anche se non sottovalutiamole, perché anche se sono pericolose, ricordiamoci la Svizzera, ricordiamoci il Galles di Bale, non so se Bale è stato convocato dal CT, poi lo scopriremo, però davvero è una cosa positiva, perché partiamo bene dopo le dieci vittorie e le qualificazioni, io sogno, io sogno un'Italia bellissima, sogno un'Italia che veramente possa sognare, e io spero che l'Italia arrivi a un traguardo storico, almeno a qualche punto, almeno in finale, perché io penso che l'allenatore Mancini, penso che Mancini è una persona seria, è una persona seria, e io le persone serie le adoro, quindi secondo me Mancini ha fatto un'ottima scelta di convocazione, quindi io penso che noi passeremo agli ottavi, però non dobbiamo sottovalutare queste tre squadre, che ci possono far male, attenzione, non sottovalutiamole, perché se le sottovalutiamo, dopo sapete come va a finire, come è andata a finire in tutti i lieto finali, perché io ho sottovalutato la Svezia, e siamo usciti fuori dal mondiale, quindi io dico, non sottovalutiamo le squadre piccole, che ci possiamo far male, basta.